Il vlog di Marco Tontodonato. La scoia e Francia dove pensava di rimanere a lobby della fotografia, ha una particolare attenzione per il mondo della disabilità, le piace scrivere per i bambini ma scrive anche libri noir per adulti. Con noi Magali Rapini, intanto complimento per il nome Magali. Grazie, grazie. Non l'avevo mai sentito, per la prima volta che sento questo nome suppongo francese. In Italia non è molto comune perché la traduzione è comunque di margherita in provenzale, infatti in Francia è molto usato, anche in tutti i paesi, a lingua francese, anche in Africa, anche in America Latina mi sembra che ci siano Magali, senza accentuo alla fine. Però in Italia non ce ne sono veramente pochissime. Però è bellissimo, suona anche bene, è un nome radiofonico. Salutiamo a proposito di radio anche qui gli amici Davore e Davide, la regia. Di Luca e Ricci. Domanda, lo so, è la solita domanda, gliela avranno fatta in tanti ma io gliela devo fare. Perché hai cominciato a scrivere? Io ho cominciato, ho sempre avuto la passione della lettura e della scrittura, non ho scritto sempre qualcosa, però diciamo che la vera passione si è sviluppata nel 2015 con i corsi che ho tenuto all'Associazione Culturale Il nome della Rosa di Giulianova, a cura di Domenico Spina, il professor Domenico Spina, e lì ho cominciato a buttare giù qualche racconto. Poi diciamo che l'urgenza di pubblicare veramente qualcosa mi è venuta nel 2019, appunto in questo mio periodo particolare ho vagato un po' per l'Europa. Quindi non tantissimo, insomma, quattro anni, cinque anni fa. No, non è tantissimo. La prima esperienza è un self-publishing. Ho pubblicato su Amazon tre libricini molto piccoli, perché è relativamente semplice. E quindi ho pubblicato un self-publishing, però poi dopo ho deciso di cancellare tutto, ho cancellato anche l'account per recuperare i diritti, diciamo sostanzialmente. Infatti stavo chiedendo che mi manca se hai cancellato tutto. E quindi poi ho raccolto questi racconti nel primo libro che si chiama Tracce ed è stato appunto, è un libro molto, è proprio autentico come libro, è molto emozionante perché proprio trasmette quelle che sono state le mie emozioni. Allora facciamo una cosa, intanto ci ascoltiamo il primo brano e poi torneremo a parlare proprio di Tracce. Ed eccoci rientrati con la scrittrice Magali Rapini. Stiamo parlando della sua prima creatura, se possiamo definirla così, Tracce. Entriamo un po' più nello specifico. Le prime creature poi sono sempre le più belle, perché comunque nelle prime creature uno dice cose che magari voleva dire da trent'anni, quindi è una cosa... E poi comunque c'è la freschezza delle idee che uno ha maturato appunto nel corso degli anni, quindi le cose più belle, ma anche nel cinema, in tutti i settori della creatività, sono le prime. È vero, è vero. Questo è una raccolta di trentatré racconti di natura diversa, c'è anche l'amore, c'è anche il mistero, c'è anche l'ironia, ma alcuni sono profondamente drammatici anche. Però l'amore non è l'amore dell'harmoni, diciamo, è un amore comunque... Quindi parla di tutto. Sì, sì, sostanzialmente sì. Molte persone diciamo che si sono ritrovate in alcuni racconti, chi in alcuni, chi in altri, ma tutti quanti, perché poi ci sono dei valori che sono universali. Cioè ci sono delle emozioni, dei valori che chiunque al mondo capisce, riconosce, diciamo. Quindi questi sono dei racconti universali. Per quanto riguarda l'amore, diciamo che è molto intenso quello che si manifesta, cioè sono racconti che fanno anche un po' male a volte. Ma lei perché ha sentito l'esigenza di scrivere tracce? Cioè c'è stato qualcosa, è accaduto qualcosa in particolare, qualcuno ha la spinta perché magari ha visto che scriveva bene? Cioè cos'è il successo? Allora, uno non scrive mai per se stesso, scrive sempre per comunicare agli altri, per far leggere agli altri qualcosa, sostanzialmente. Anche però per un piacere personale. Esperando poi che ci sia qualcuno che se lo legge. Io credo anche per un piacere personale, però. Sì, però diciamo che la volontà è quella di dire qualcosa. Io volevo dire qualcosa, ecco sostanzialmente con questo libro io volevo dire qualcosa, delle cose, e l'ho detto. E perché ha sentito questa esigenza di dire qualcosa agli altri? No, no, appunto perché ho passato un periodo particolare a livello personale, emotivo, e diciamo che appunto, come diceva lei, sono partita con lo Zenetto in spalla per Londra, per la Scozia, la Francia, da sola, senza nessuno, ho capito? Un po' folle questa cosa. Fra parentesi questa è una cosa che avrebbero voluto fare un sacco di persone, penso, partire con lo Zenetto. Ah sì, certo, certo. Soprattutto sotto Covid, molte persone avrebbero voluto partire con lo Zenetto. Comunque poi, quindi, questa mia sofferenza interiore, diciamo, io l'ho manifestata in questi racconti, l'ho raccontata in qualche maniera, non è un autobiografico. Ah, non è, allora, non è autobiografico. Ma sostanzialmente si parla di quello che si conosce, cioè io non posso scrivere di una cosa che non conosco, io non posso parlare di calcio, cioè io devo parlare, parlo di qualcosa. Però magari bisogna capire se è qualcosa che conosce direttamente o indirettamente. Questo è indirettamente o direttamente questo conoscenzo? Diciamo un po' un po', prevalentemente direttamente, prevalentemente è un'esperienza mia personale, però... Bene, allora riprendiamo fiato e poi torneremo. Intanto qui si balla, perché questa è DJ International e quindi si balla. E allora ricominciamo, poi io sono curioso, lei mi deve perdonare ma sono curioso. Perché volevo andare in Inghilterra o in Scozia o in Francia con lo zaino da sola? Beh, da buona semiconplottista. No, ma è una complottista. No, no, nel senso che l'Inghilterra la vedevo, l'UK lo vedevo un po' fuori dai giochi, no? Cioè un po', ecco, un paese libero, fra virgolette. Pensavo che lì avrei trovato quella libertà che qui non avevo sostanzialmente, non mi sentivo libera. Quindi sono andata in UK, ho fatto prima l'Inghilterra e la Scozia, poi mi hanno fatto sostanzialmente tornare, se no io stavo ancora là. A forza l'hanno rimandata, che cosa ne hanno pagato il biglietto per tornare qui in Italia? Guarda, una volta sì, dalla Francia, se non mi sbaglio, me l'hanno pagato. Ma a proposito, qualche esperienza particolare in questo viaggio? Ce la può raccontare? È accaduto qualcosa di strano, di stravagante? Tutto nella norma? Beh, sono successe tante cose. Per esempio, Barbès de Souchoir, che è una... Io non riuscirò mai a dire. Non riuscirò mai a pronunciarlo. Non riuscirò mai a pronunciarlo. È un quartiere di Parigi, un po' malfamico. Cioè la stazione delle metropolitane di Barbès de Souchoir è un po' da evitare, diciamo. Di Souchoir con Souchoir. Io usavo un'applicazione di quelle che ti dicono dove devi andare, ma non ti dicono che là non ci devi andare. E ha ragione, ha ragione, deve... Quindi lì mi si è avvicinato uno e mi ha sfilato il cellulare della tasca del giubbotto, perché comunque da dietro. Allora io a quel punto l'ho preso a ombrellate, violentemente. E per fortuna aveva solo ombrello. Alla fine mi ha ridato... È rimasto così scioccato che mi ha ridato il cellulare. Ha detto va bene, non fa niente, se lo può tenere. Va bene, va bene. Allora, ancora un po' di musica. Dopo l'ombrellata. Abbiamo parlato del quartiere... Barbès de Souchoir. L'ha detto lei perché io assolutamente non ci provo neppure, non ci provo. Però è bello da ascoltare. Ma vabbè, il francese è una lingua bella da ascoltare, quasi quanto lo spagnolo. Insomma, ha fatto questo viaggio, dovrì che è tornata e ha scritto tracce. Esatto, praticamente sì. E quindi questo libro è un'espressione delle sensazioni, delle emozioni che io ho vissuto in quegli anni, in quel periodo, ma anche negli anni precedenti. Avevo già scritto... Alcuni di questi racconti sono stati scritti durante il corso di scrittura, quindi dal 2015 al 2018 come periodo. E poi ha cominciato a scrivere qualcosa per i bambini o già aveva scritto qualcosa per i bambini? No, no, ho provato, dopo tracce, siccome scrivere di cose molto drammatiche, molto drammatiche, molto diciamo emozionanti, comunque ti mette alla prova. Perché comunque scrivere cose molto dolorose ti mette veramente alla prova. Sì, perché lei parla di disabilità, mi sembra, no? Anche disabilità, sì, sì. L'intostracismo del malato psichiatrico, anche di violenza psicologica, del manico mediteramo. Oggi ho visto sull'ANSA che si è data risposta finalmente alle lettere dei malati psichiatrici che non venivano spediti a casa. Quindi questi uomini che non avevano il telefono, non avevano il cellulare, scrivevano queste lettere accorate magari ai genitori, alla moglie, al fratello. Cioè dicevano, vieni a prendere, ti voglio bene, mi manchi. E queste non venivano spedite, venivano messe negli archivi, fascicolo personale della persona. Consideriamo che non c'era nessun altro tipo di contatto. E quindi oggi come oggi sono state riprese queste lettere, mi sembra che a Volterra stiano facendo una cosa tipo spedire queste lettere a chi è disponibile a riceverle, tradurle, cioè riscriverle, spedirle a chi è disponibile a riceverle, Ma anche qui, perché proprio questo mondo, cioè perché vuole affrontare queste tematiche così dure della vita nei suoi testi? Ma sicuramente non è che io ho problemi a dirlo. Io ho avuto un periodo particolare, l'ho detto, l'ho detto, e chiaramente era di natura psicologica, quindi non è che non ho problemi a dire questo. Quindi che è successo? Anche perché mi sembra brillantemente superati. Sì, diciamo che ci sono degli strascichi soprattutto sull'ambiente che uno ha intorno, perché comunque purtroppo queste patologie, poiché non c'è la certezza della diagnosi, cioè lei non può sapere come sto io. Ah beh, certo. Se io ho il braccio rotto, il braccio è rotto sì, il braccio è rotto no. Ah certo, non posso guardare dentro la testa di nessuno. Invece in questi ambiti, diciamo, bisognerebbe proteggere le persone interessate, i malati, da queste forme di ostracismo del piccolo, del grosso gruppo o della nazione addirittura, proteggendole, non parlando del problema, perché purtroppo poi si innescano queste dinamiche, diciamo, ostracizzanti, che non sono inevitabili, non c'è modo di evitarle. Quindi, perché magari il panettiere dirà sì, lo visce, non c'è uno sguardo. A brussese questo panettiere. Poi magari il macellaio dirà sì, secondo me non sta parlavano un po' troppo lentamente. Un altro magari dirà sì, puzzava. Questo è un classico, no? Di vari effetti collaterali, per capirci. No, nel senso che tutti diranno la loro, anche quando non c'è nessuna base. Sì, sì, dicevo, però guardano degli effetti così che poi non sono... Ma magari inesistenti, cioè ognuno avrà la sua... Spiegazione, magari di quel giorno. Esatto, ma no, ma la sua opinione, ma anche a fin di bene. Cioè io voglio vedere come sta un mio amico o una mia parente, allora gli comincio a dire, allora come stai? Poi chiedo, che giorno è oggi? Mi sai dire, non mi ricordo, per vedere se lei... Ah, quindi proprio comincia a indagare per cercare di... Si trasforma in dottore, per capirci. Ma l'interessato, dopo tutte le vod, queste cose, queste le cose le capisci. Certo, si rende conto di quello che sta... E già tanto se non diventa violento. Molte volte diventa provocatorio. Comunque sia il suo ambiente definitivamente compromesso. Ed eccoci rientrati con la scrittrice Magali Rapini, che passa dalle favole al libro noir. Il titolo, intanto? Accarezzando le ombre. Un titolo molto significativo. Dove è possibile trovare questo testo? Ma questi testi sono tutti nei canali delle librerie, quindi si possono sia comprare in libreria che online su IBS Libri, Mondatore Store, Feltrinelli, da tutte le parti. Ovviamente, io non sono Calvino, probabilmente non ci saranno disponibili le librerie, bisogna ordinarle. Ordinarle, sicuramente. Allora, mi piacerebbe ascoltare qualche passaggio. Beh, a motivazione del fatto che io abbia scritto questo libro, possiamo leggere la prima frase di Una Domenica di Agosto, che è un raccontino molto molto noir. E fa così. E' nel buio della follia, e nell'approssimarsi della morte, che si scorgono confusamente i mostri di questo mondo e dell'altro. Una volta di vita, di felicità, di allegria. Ho visto qui per un attimo Davore e David, insomma, un po' perplessi. E ragazzi, questa è una sfaccettatura della vita. Ma nel senso che io, avendo avuto questo periodo particolare, magari mi sono immaginata cose, no? Ho anche visto i mostri fra gli esseri umani. Certo, immagino. E quindi questa è una frase emblematica, delle motivazioni per cui ho scritto questo libro. Ma lei preferisce più scrivere questi libri noir o le favole? Io mi piacciono entrambi, perché le favole sono bellissime. Poi avere a che fare con i bambini è qualcosa di meraviglioso. Quindi penso che insisterò sulle favole. Il prossimo libro, infatti, dovrebbe essere una raccolta di favole. Però sicuramente scriverò qualcos'altro anche di... Un po' d'amore, no? Ma l'amore c'è in questi libri, non è proprio... Magari visto a modo suo, un po' così, non proprio... Soprattutto in tracce ci sono dei racconti romanticissimi, veramente. Ma non sono gli armoni, ripeto. Sta preparando qualcosa? C'è la bozza di qualche altro libro? C'è qualche racconto, è nato. C'è un lungo racconto su un serial killer. E quindi siamo tornati al noir. E poi c'è una raccolta di favole in uscita. Vediamo se me la pubblicano. Appunto dovrebbe uscire, diciamo, una gestazione in marzo-aprile prossimo. Ma un'anteprima? Perché noi siamo poi, quando sentiamo il serial killer, siamo un po' come dire... Ci piace di più, no? E questo è un serial killer. Dove accade questa... Dove abita questo serial killer? Questo è un serial killer che ha le sue vittime in chat, nelle chat d'incontro. Che può sembrare scontato, però alla fine... E poi lui è molto intelligente, quindi quando vede queste donne le compiace, quindi queste tutte contente, poi le fa fuori. Ma lui di dov'è? È abruzzese? No, per capire, perché di solito ci sono le ambientazioni New York, Londra, Parigi, magari anche un serial killer in Abruzzo. Non ce lo dobbiamo far mancare, no? La caratteristica dei racconti è che se dai la localizzazione precisa, sembrano più veri, capito? Certo. Questo non gliel'ho dato alla localizzazione, però diciamo che è delle parti nostre sostanzialmente. Di Martinsicuro, in serie anche io, di Martinsicuro. Questo è giusto per variare. Vabbè, scherzi a parte, sorridiamo anche perché oggi insomma abbiamo parlato anche di temi, anzi tematiche, importanti e serie, io la ringrazio. Ringraziamo magari i repini, anzi magari ci ritroveremo per il suo prossimo libro. Grazie, grazie anche qui a Davide Addavor e al nostro regista Luca Ricci e grazie anche agli amici che ci hanno seguito su Rete 8 di pomeriggio. Il vlog di Marco Tontodonato.